Si raccusa rebus elezioni tra sezioni incriminate e verbali revisionati in casi gravi aprire le buste dei voti. Quanto è successo per gli escutini delle regionali del 2012 quando si tornò al voto in nuove sezioni per quelli delle amministrative del 2018 con il TAR che decise di ripetere il voto in nuove sezioni e il CGA che ribaltò la sentenza di primo grado escludendo il ritorno alle urne e per quelli del regionale del settembre dell'anno scorso che costrinse l'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Siracusa a rivedere i verbali di 43 sezioni del Siracusano dovrebbe indurre il legislatore una rapida modifica della normativa in materia di escutini elettorali. Queste le affermazioni dell'avvocato Paolo Cavallaro, dirigente regionale di Fratelli d'Italia. Sarebbe opportuno, prosegue Cavallaro, introdurre la possibilità per l'ufficio centrale in casi gravi di riaprire le buste contenenti le schede votate alla presenza dei componenti dei seggi interessati da errori e omissioni nei verbali in nome dell'interesse primario al rispetto del voto popolare. Sarebbe anche opportuno accrescere i requisiti per l'iscrizione nell'elenco ottenuto dagli uffici della Corte d'Appello prevedendo il possesso della laurea o l'esperienza documentata presso la pubblica amministrazione aumentando le indennità previste. Necessario infine limitare la possibilità di rinuncia alla funzione di Presidente solo a gravissimi e specifici motivi argomenta il dirigente di Fratelli d'Italia prevedendo in ogni caso l'eventuale sostituzione esclusivamente con altri soggetti facenti parte dell'elenco depositato presso la Corte d'Appello o con personale dirigente della pubblica amministrazione. Non è accettabile in una democrazia matura come la nostra assistere a ritardi ed errori e omissioni in fase di scrutinio perché questo getta discredito al sistema stesso delle elezioni e allontana gli elettori dalla sezione elettorale sempre più disertata. Si corra subito ai ripari mentre ancora siamo in tempo perché altri estafalcioni sarebbero veramente un duro colpo alla democrazia già in forte crisi per svariati motivi su cui non è il caso qui soffermarsi. Ho paura, conclude l'Avvocato Paolo Cavallaro, che ci stiamo abituando all'approssimazione, alla superficialità, agli errori, spesso con atteggiamento troppo indulgente e che stride con la sacralità della democrazia e con il doveroso e forte senso di rispetto delle regole che governano il momento più importante della vita delle istituzioni pubbliche.